Allora mi trovo oggi su scacchisti per fare qualche partita veloce Mio nick alt 4d molto fantasioso Punteggio 1952 piuttosto scarsino direi E andiamo a farci qualche partitina con qualcuno Vediamo se c'è qualcuno che vuole giocare a 3 minuti Ah dai giochiamo, no questo mi sa che mi ammazza 2 minuti dai col nero Proviamo Vediamo che apertura utilizzerà il mio avversario D4 è la mia preferita Ok Non andiamo ad utilizzare aperture strane ragazzi eh Non lo voglio oggi Stare lì a ragionare Andiamo sul tranquillo Oh ci togliamo di mezzo anche questo alfiere Però ho perso così l'alfiere buono ma fa niente Allora Per ora la posizione sembra abbastanza equilibrata Sembra Perché tutto sempre può succedere Ehm Questo colpo di scena Accettiamo Accettiamolo Vediamo in quante mosse perdo Allora Vediamo eh Vediamo eh Se riesco a fare cavolate anche adesso Diciamo che il mio avversario sta giocando in modo molto Ma molto ma molto ma molto aggressivo Cosa migliore sarebbe andare con la regina a romperli un po' Anzitutto vi farei una bella ritirata di quelle strategiche Che non fanno mai male Che non fanno mai male Poi andrei Sviluppiamo i pezzi va Sta dando un po' sul tempo però Cavallo Dove vuole andare questo bel cavallo Non lo so Anzi si che lo so In D4 probabilmente E fa bene Fa bene si Sono piuttosto sulla difensiva In questa partita Però Si spera di Trovare il colpo di scena Il prima possibile Sicuro sto perdendo delle occasioni Potentissime da qualche parte Tipo esatto Questa non l'avevo proprio vista Vediamo di mantenere comunque la posizione Vediamo cosa esce fuori Così Così non faccio altro che centralizzare Dargli la torre però Bella questa Questa mi è piaciuta Però non serve a molto Non serve a molto No perché Perché non serve a molto Perché Non so che cosa farmi Sinceramente Bella situazione Di cacca Allora Attenzione che mi sto andando veramente A complicare la vita A dir poco Qui ora O faccio matto O prendo il matto Tipo adesso Tipo adesso Non so che Ma se sto facendo Non so che ma se sto facendo Wow Non so neanche io Come ho fatto Ma se sto facendo Grazie.